originaria di Vignola, inizia a cantare nelle valere della sua zona e, nel 1966, dopo aver partecipato a un concorso canoro con una versione di Sono Bugiarda, cover di Emma Believer dei Monkeys, ottiene un contratto con la CBS, debutta nello stesso anno con il primo 45 giri, la facciata dipingi un mondo per me, la canzone sul lato B viene presentata nello stesso anno al Festival Bar, ma il successo arriva con una versione di Ode per Billy Joe, cover del noto successo di Bobby Gentry, nel 1967, a cui segue un ragazzo che sogna nel 1968, l'anno successivo partecipa al cantagiro 1969 con Deserto, sempre nel 1969 incide Tu dormirai, canzone inserita nella colonna sonora del film una lezione particolare scritta da Francis Lai, nel 1970 passa poi alla Bentler, e nello stesso anno vince con Faccia da Schiaffi la mostra internazionale di musica leggera di, Venezia, brano con cui partecipa pochi mesi dopo alla Caravella dei successi di Bari, l'anno successivo partecipa a Canzonissima con il nostro concerto, cover di Umberto Bindi, partecipa poi a un disco per l'estate 1971 con noi, a un disco per l'estate 1972 con Passera, ritorna a Canzonissima nel 1972 con Amore immenso e nel 1974 proponendo una sua versione di tango, della gelosia, partecipa al Festival di Sanremo 1974 con La Donna quando pensa e a quello del 1975 con Sé Nasco, Un'altra volta, di Alberto Testa e Pino Donaggio, nel 1977 incide Se e Mi sento femmina, scritte da Ermanno Capelli, testi, e Walter Zabai, musiche, negli anni successivi, pur continuando ad incidere, si avvicina all'operetta e inizia a recitare, Fino alla prematura scomparsa avvenuta nel 1985 all'età di 35 anni a causa di un incidente stradale, la sua Volvo grigia si schiantò contro un autocarro, il destino fu crudele maggiormente se si pensa che la Musiani proprio nel 1985 si stava preparando, per ritornare sulle scene del Teatro Artistona al Festival di Sanremo di quell'anno con la canzone, che ora è.